Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Metin2 Noi siamo la Triforce sul secondo canale, Triforce Plus con Paschi Ciao! Ragazzi quest'oggi dopo i recenti video che sono andati benissimo ragazzi vi ringraziamo ancora abbiamo visto che il video delle hoop delle lune ha raggiunto il mettere mi piace quando stiamo registrando però i pesci sono ancora in lavorazione quindi a breve lo faremo ogni promessa è un debito e noi me la portiamo quindi ragazzi prima di iniziare già vi diciamo che se raggiungiamo stavolta perché a fine video vedrete dobbiamo raggiungere 39 like urbo 39 like e faremo una cosa che vedrete alla fine come al solito ragazzi vi spoileriamo un pochetto del video alla fine in ogni caso Paschi che facciamo in questo video? non abbiamo detto ancora che facciamo allora abbiamo sfruttato l'evento dei forzieri esagonali passato da poco potreste pensare che diciamo che i forzieri esagonali non sono un granché però fanno un po' schicciare noi li testiamo per vedere ne apriremo 50 Pulmo io ti consiglio di 5 venderli perché io le ho vendute lo c'ho guarda 6 quindi 6 li vendo 6 li vendi tranquillamente perché io uno l'ho venduta 800k quindi non è male ragazzi vi consigliamo comunque di sfruttare questo tipo di eventi perché non sono massime non sono male infatti il forzieri esagonali può darci delle cose molto interessanti Paschi le andiamo ad elencare io metterò intanto una grafica dove vedrete cosa è che ci può uscire ma di interessante ricordiamo qualcosa al volo un bel fagiolo zen che in questo periodo vale molto un papiro consacrato che forse è la cosa migliore in questo periodo perché vale 5-6kk è molto molto utile e poi sono le varie bile d'orso con dei serpenti e più che pure non sono male e qualche item minore tipo crema per il viso spilone per i capelli eccetera dente d'orco dente d'orco che 2kk e 5 non sono male non è malo faremo vedere se vale la pena aprirli o venderli a 800 anche unkk e quindi su 50 fare 50kk sempre se li comprano non ne siamo certi che è una cosa veloce quindi noi li apriamo poi vediamo se va bene sì Paschi in pratica facciamo un test sì è un test se conviene aprirli oppure vendirli come faremo con i pesci esatto 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 vedrete poi il video di pesci vabbè Gulmo in questo video Paschi oltre ai bauri esagonali vorrei aprire una cassa frammento che ho fatto poco fa e leggermi anche una PDA alla fine magari ma Gulmo se non sbaglio tu da poco hai fatto la missione dell'80 sì da poco ho fatto Paschi la missione dell'80 che mi ha dato una bella cassetta di ebolo aprirei anche quella direi adesso ah no non vuoi uscire ce l'ho in un altro account magari a fine video vediamo un po' come vai apriamo anche quella si può fare allora Paschi senza che li divido le rimango 50k e iniziamo Paschi lo spacchettamento dei bauri esagonali tanto pulmo al culo rotto quindi vai andiamo con il primo perfetto pozione rossa ci sta secondo porcelana rotta 2-300k forse un po' di esperienza non male pellaccia di tigre eccola qui talismano sconosciuto che mi si vende 200k sì dente d'orco ecco qua già c'è un bel recupero Gummo perché 2kk e 5 ne hai già due ne ho già due uno l'ho trovato a terra ottimo ottimo il mio dente d'orco vai pellaccia di tigre bianca che è la discorpione che non è molto male siamo intorno a 1kk è abbastanza rara sì da trovare andiamo col prossimo mantello del rifugiato ne ho a miliardi nel magazzino e spillone per capelli i primi 10 sono andati non male col dente d'orco il dente d'orco ci sono un bel recupero sì non male allora andiamo con i prossimi 10 porzione blu piccola bella porzione blu media è gigante è porzione blu mamma mia va bene andiamo avanti porzione blu porzione rossa e basta con ste pozze ancora pozze Paschi eccole qui si iniziano ad accumulare qua esperienza che tra l'altro mi serve che sto all'85% ma è pochissima bile d'orso ottimo 800k 6700 800k non ne ho poche ne ho tipo 4-5 uno in più fa sempre comodo Paschi sì poi esperienza dai ma è un papino non esce ne ho un altro decimo pozione rossa piccola andiamo avanti Paschi con i prossimi 10 che era di scorpione siamo a due pozione blu media ago di scorpione pozione rossa esperienza ancora pozione blu pellaccia di luogo più esperienza quanti imperatore saggio 300k 300k non è male almeno ai tempi la stessa cosa Paschi quindi su 30 forse alle secondarie almeno un papiro sì solo un dente d'orco di buono quello che vale non si muore un dente d'orco molte pozze molta esperienza probabilmente conviene venderli o buttarli a terra curma non lo so però perché non sono sicuro e li compra me l'hanno comprato 800k poi se qualche folle mi ho troppato solo uno e quindi l'ho venduto potrebbe essere che qualche folle lo compri non lo so va bene andiamo avanti Paschi dente d'orco salve buco buono ottimo ago di scorpione ancora papiro matassa 200k pozione piccola naso di maria inutile per terra anzi non lo devo buttare proprio adesso a terra esperienza pelliccia di tigre ancora che era di scorpione per 3 siamo e forse nata notte la piovo 2 papiri proprio ragazzi zero è bassissima del papiro anche le cose di scorpione in più che pure valgo molto andiamo con gli ultimi 10 Paschi non lo abbiamo per dente d'orco un altro dente d'orco ottimo 9 pozione rossa pozione blu ago di scorpione papiro proprio niente pozione rossa gli ultimi 5 Paschi esperienza ma tassa pozione blu pozione rossa e papiro consacrato ragazzi bottino un po' risicato Paschi diciamo che 4 denti d'orco con 10kk con 3 si 7kk e mezzo più nello ci hai fatto diciamo non ci abbiamo proprio recuperato diciamo se vendevi i forzieri li compravano 800-900k ci faceva un bel po' di più però bisogna sempre vedere forse ragazzi comunque fare questi eventi secondo me conviene da un livello non troppo alto per fare soldi è conveniente comunque Paschi un'altra cosa che volevo dire adesso abbiamo fatto il video spacchettamento poiché c'è stato l'evento appunto dei forzi però sotto nei commenti un ragazzo ci ha consigliato un video da fare che potrebbe essere quello di una guida su come fare soldi noi abbiamo oggi in mente qualcosa che ne anticipiamo abbiamo in mente di fare tra l'altro comprare di d'orco ottimo praticamente una guida per livelli su dove e come fare soldi ovviamente facciamo fino a livello 80 perché oltre non abbiamo molto esperitato diciamo che il modo di fare soldi da livelli bassi sia alti ci sono ragazzi serve solo un po' di pazienza ovviamente adesso per fare soldi veloci l'unico sistema è quello delle schegge sicuramente però ci sono tantissimi altri modi per fare soldi su un meeting partendo dalle piccole cose sicuramente infatti il nostro iscritto ci ha chiesto a parte l'alchimia qual è un modo per fare soldi sapete anche un dibattito lì sotto però ci sono altri modi però sono un po' più lenti ovviamente non pensate di fare due o tre won alla volta però piano piano come si dice paschi ashen ashen si fa la mashen infatti paschi va bene allora andiamo ad aprire la cassa frammento paschi che mi è rimasta vediamo un po' se esce un libro una gemma libro della vita mi leggo la piglia mi leggo attacco lampo che mi sono falliti i risetti di fila oh lag lag buono buono passa g2 finalmente mamma mia quanto ci è voluto a farlo non vede come quanto karma paschi adesso andremo ad aprire la cassetta debbano cambia account e ce l'apriamo ok ci vediamo quando ce l'avrò ok paschi ho appena preso la cassetta debbano blu che si vede la terra in lontananza con la quara la cassetta blu paschi potrebbe riservare cose davvero davvero utili tra aggiungi gira e altro di molto di merda lotta tra trafiggente young che probabilmente usciranno colmo di uscire sicuramente il gira tra l'altro nel mio inventario si intravede qualcosa che faremo in futuro però la dovete notare i voti fateci sapere qui sotto nei commenti se notate qualcosa di particolare in questo inventario in ogni caso paschi andiamo ad aprire la cassetta notta trafiggente ottimo pulmo mannaia poteva andare un po' meglio però quindi questo è il video di oggi se vi piace lasciate un like iscrivetevi al canale e adesso vi faremo vedere la piccola cosa porteremo dopo i 39 like spero di non arrivarci mai pulmo non arriviamo a 39 like perché sarà una cosa davvero suicida suicida proprio davvero suicida però la farò eccoci pulmo paschi siamo sul tuo account per farvi vedere la follia la follia ragazzi la follia c'è già qualcosa ragazzi eccola qui eccola questa venenosa ragazzi vediamo arriviamo a 39 like il più tardi possibile e proverò a dupparla a più 9 ragazzi 30 mediti 20 diavoli 30 mediti so già che butterò il sangue lo so già però voglio farla a più 9 insieme alla vostra compagnia può darsi mi porterò fortuna e la farò direttamente più 7 più 8 più 9 si si non penso però c'hai 1kkk 1kkk 18 papiri spero di non usarle in più anche se probabilmente speriamo di non poi c'è tante perle da parte quindi ragazzi 39 like velenosa più 9 però c'è tante perle non